Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità con la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle la nuova legge sulle cave, che in 45 articoli riordina e amplia la disciplina in tema di attività estrative, in sintonia con il rispetto dell'ambiente. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto di indirizzo della Giunta sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2017-2018. Il provvedimento proposto dall'assessore all'istruzione conferma il mantenimento della media di 950 alunni per istituto. Nell'ambito di Rights on the Movie, rassegna per le scuole promossa dal Comitato Diritti Umani con Nagi Scuola, proiezione il 7 novembre a Torino e nelle sale dei capoluoghi di provincia piemontesi del film Fuoco a Mare, replica in serata al Cinema Massimo di Torino con la presenza dei vertici istituzionali del Comitato Diritti Umani. E' stata inaugurata a Palazzo Lascaris la prima giornata formativa del percorso Migrazione e Accoglienza, organizzato dal Centro per l'UNESCO di Torino con l'assessorato all'istruzione della Regione e l'ufficio scolastico regionale, al quale hanno aderito più di 2.000 tra studenti e docenti. E' partito dal Consiglio regionale il tour nelle principali città italiane del Comune di Aliano, candidato a Capitale Italiana della Cultura 2018. Il paese della provincia di Matera, descritto da Carlo Levin, Cristo si è fermato a Eboli, ha partecipato al bando del Ministero dei Beni Culturali. Parte da un gruppo di mamme di alcuni comuni del Piemonte, l'iniziativa We Love Alquata, a sostegno delle popolazioni e in particolare dei bambini colpite dal terremoto nel centro Italia. Il progetto è stato presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa della consulta femminile. In contemporanea con la mostra sui 600 anni del Ducato di Savoia, realizzata dal Consiglio regionale con la Biblioteca nazionale e il Centro Studi Piemontesi, la Biblioteca della Regione dedica tre conferenze al tema Piemonte-Bon Nouvelle. Prossimi appuntamenti mercoledì 16 e mercoledì 23 novembre. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay tv o cellulari? Il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11 Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.